Presidente, oggi è partito in via ufficiale il progetto Giovani Istituzioni. L'incontro qui a Pesaro, al ICEO Marconi, è stato interessante e veramente appassionante. Straordinaria è l'attenzione che ha contraddistinto questo paio d'ore di colloquio e di dialogo con i ragazzi di questo istituto. Mi ha sorpreso perché in fondo il tema non è facile. Abbiamo cercato di capire come funziona l'istituzione, come funziona la regione. Quali sono i cambiamenti in atto? Esco da questa esperienza davvero rinfrancato perché il grado di attenzione, partecipazione, le domande intelligenti che sono state fatte, la coralità anche dell'impegno nel costruire questo incontro mi rinfrancano rispetto alla prospettiva di avvicinare sempre di più le istituzioni ai giovani, alle persone. E' uno dei compiti che in questi anni ci dobbiamo assumere, avvicinare la regione ai cittadini. Come ti è apparso questo incontro? E' stato molto bello e sicuramente molto utile. E' stato un buon inizio per avvicinare le istituzioni a noi giovani. Sei rimasta soddisfatta di questo incontro? Sì, abbastanza, soprattutto per il contatto diretto con le istituzioni, visto che oggi ci appaiono davvero tanto lontane, sempre viste in tv. E' quindi molto utile.